Un defibrillatore ogni 66 abitanti è il progetto quartiere cardioprotetto ideato da Progetto Vita per l'area di Viale Dante in cui risiedono 10.000 persone. Sono 150 i defibrillatori che verranno posizionati in questa zona in cui si registra la maggiore mortalità da arresto cardiaco. La presentazione dell'iniziativa ha visto al tavolo dei relatori, oltre ad Azienda Sanitaria e Progetto Vita, i partner, ovvero Philips, che donerà 150 defibrillatori, Ampas, Unione Commercianti, CNA, Acer e amministratori di condominio. Presso cardiaco nell'80% dei casi si ha a casa e quindi tutti i familiari vicini devono essere al corrente che si può anticipare il soccorso dell'ambulanza e del sanitario usando un semplice defibrillatore. Il punto cruciale di questo progetto è quello di sensibilizzare i inquilini, i cittadini a fare il corso gratuito per gestire questa emergenza, imparando le prime manovre e imparando a usare il defibrillatore che è la cosa più semplice che ci sia. Il prezioso salvavita verrà utilizzato dai cittadini, i primi ad effettuare il corso saranno i commercianti. Progetto Vita prevede di certificare 4.000 persone in due anni. Noi ci siamo appunto anche resi disponibili attivamente a essere nei momenti ovviamente di apertura dei negozi anche di poter essere utili per chi ha problemi eventuali. Nelle nostre attività speriamo di no però se dovesse capitare insomma siamo pronti a questi eventi. L'inaugurazione del quartiere cardioprotetto è prevista venerdì 29 settembre alle 17 nel parcheggio della Santissima Trinità.